E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche oggi andiamo insieme a fare il nostro update legato all'analisi tecnica legato al mercato delle criptovalute andremo a vedere quello che sta accadendo a Bitcoin perché siamo in una fase di leggero scarico ma andremo a capire effettivamente dove ci troviamo ieri abbiamo già parlato di weekend abbiamo già parlato di volatilità oggi andremo a fare un pochino appunto la situazione è un flash update non voglio andare troppo troppo a fondo ma voglio fare più una panoramica overview che è quello di cui credo abbiamo più bisogno in questo momento ma come sempre prima di partire il mio invito è uno quello di lasciare un bel mi piace qualora questi contenuti fossero di vostro interesse davvero a voi non costa nulla a me aiuta davvero tantissimo quindi vi ringrazio sempre se lo fate e se siete nuovi il mio invito è quello di iscrivervi al canale col clic sulla campanellina due contenuti al giorno quindi è il mio unico modo per rimanere aggiornati altrimenti ci si perde ed è un mercato che non lascia possibilità di lasciarsi insomma sfuggire le cose perché si missano tante tante potenziali entrate detto ciò basta chiacchiere partiamo vi invito a dare una descrizione qui sotto ai codici che trovate per i vari exchange che sto utilizzando e partiamo direttamente con l'analisi su Bitcoin perché Bitcoin ha fatto due belle giornate questa del 28 di ottobre è stata una giornata con uno shake quindi grande volatilità e poi abbiamo aperto in maniera molto positiva andando a superare la trendline che stavamo osservando appunto discendente e avevamo detto l'imprimo step era recuperare la 12 ema quindi questa media gialla recuperata rompere la trendline e attenzione ai ritest dove stiamo andando siamo andati a correggere nella giornata di oggi fino in zona 61k che è molto molto vicino a sia la 12 che la trendline quindi attenzione perché chiudesse la giornata in queste zone qua dei 62 61 alto potrebbe essere un ottimo segnale di continuazione quindi di forza che il prezzo potrebbe andare ad accumulare per poter fare una leg up e riattaccare come mio primo target i 64 perché i 64? perché vanno più o meno in corrispondenza di questa zona qua che è un cluster che secondo me è abbastanza importante prima di andare a riattaccare i massimi precedenti barra all time high ok? questo è un po' quello che io sto andando a osservare ricordiamoci che la run precedente, su questo credo sia importante far un attimo un appunto è stata comunque condotta anche da un etf, da una notizia di un etf quindi ora sapete come funziona? c'è il buy the news, sell the rumor scusatemi, sell the ru... buy the rumor, sell the news ecco, il buy the rumor, sell the news in realtà non c'è stato un grandissimo sell the news ma stiamo andando a lateralizzare io vi ricordo per chi appunto se lo fosse perso che lo scenario di lateralizzazione di cui anche avevamo discusso quindi una cosa di questo genere qua che possiamo portarci avanti anche fino a metà mese di novembre tranquillamente è uno scenario fantastico, fantastico per quello che riguardano le altcoin ok ragazzi? perché questo? perché è l'unico modo che voi avete per andare a scaricare scusate market cap sulle altcoin ok? scaricare market cap sulle altcoin porta le altcoin ad outperformare in maniera veramente potente quello che ha il mercato quindi per i non massimalisti di bitcoin ok? quindi non rientro io in tutto ciò andate comunque in una fase di vantaggio quello che stiamo osservando infatti sulla dominance non è una continuazione la 200 che avevamo anch'essa discusso come potenziale stop per la crescita della dominance trazione dovuta abbiamo già detto anche tanto al discorso etf sta andando a lateralizzare ma non sembra in uno scenario molto bullish ok? sembra andare a lateralizzare in questa zona qua a supporto con la 50 e sta andando insomma a dare anche un segnale di debolezza secondo me perché sì veniamo da una bella leg up stiamo andando a correggere però finché rimaniamo in questa zona qua non stiamo rimbalzando per capirci in maniera aggressiva cioè fare questo per poi magari andare a continuare a rialzo ma stiamo andando a essere un po' scarichetti e questo può portare un'ulteriore correzione down della dominance che porterebbe a condizione che bitcoin non dumpi a condizione che bitcoin rimanga appunto in uno scenario bullish ok? il mercato alt ha rialzo ok? tutto qua stiamo osservando anche altre altcoin andare abbastanza bene stanno performando molto bene tutto quello che è il comparto metaverse ok? lo stiamo vedendo da sand perché sand si è risvegliato sand avevamo parlato anche di un bel progetto a me è sempre piaciuto personalmente avevo una piccola posizione in sand che avevo già chiuso in profit però è un bel progetto è molto valido lo stiamo vedendo nelle ultime giornate da atlas che non so se conoscete ma immagino di sì era quella pre-sale atomica che ha fatto ftx che poi è andato a correggere chiaramente dovuto al fatto che non c'è stata ovviamente quando fate questi game qua si vende ok? quindi poi è difficile per il prezzo recuperare però sta andando a farlo in questo momento sta facendo tre giornate in cui è andato a recuperare addirittura da un da un 8 centesimi è andato a un 12 quindi ha fatto un grandissimo gain lo stiamo vedendo su tanti nomi ok? tanti tanti nomi bisogna però tenere un attimo la calma la concentrazione senza farsi prendere dalla piena fomo mi raccomando questo è fondamentale la market cap si mantiene su 2.6 trillions quindi abbastanza bene direi nulla di allarmante però ricordiamoci sempre chi è che andrà a gestire il tutto ovvero bitcoin ok? mi raccomando non perdiamo il focus su quello che è bitcoin perché è quello che poi sarà driver del resto e questo bisogna sempre tenerlo molto molto bene a mente ragazzi mi fermo era un flash update ok? quindi non volevo stare a essere troppo pesante oggi perché siamo nei weekend i volumi sono un po' più bassi lo stiamo notando guardate anche qua i candeli orari non so perché le faccio vedere giornalieri non so perché le faccio vedere però appunto è importante secondo me come focus se questo contenuto vi è piaciuto vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace a iscrivervi al canale con un clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati noi ci vediamo appunto domani con un altro update ciao a tutti ragazzi grazie